la ricardino viaggi è sempre presente e non morirà mai guardate dove vi ha portato nella prosperità nel vivo degli europei la strada è Polazia 2 litori, 2 litori, 2 litori, 2 litori, 3 litori, 2 litori, 2 litori, vieni! Ci sono le muche Quanto manca? Due orette E' tutto sotto controllo Ricardinio Viaggi S.P.A Ricci pronto allo stadio Pronti, 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 pronti Un'ora di lavoro E poi la partita Ricardinio Viaggi Vi ha promesso grande ricompensa Almeno 20 euro a ciascuno Vi ritorneranno Solo per pochi elettri S.P.A 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 A faccia, a faccia pochettino, a faccia! Siamo al 31esimo e stiamo vincendo. Primo tempo tra l'altro. Incredibile, semifinale europei. Fuori, fuori, fuori! Dove è il travellone? È 2 a 0! 2 a 0! Ti avevo detto, due gol di Balotelli. Io non mi ricordo, però ci credo. Ma vaffanculo di portarci tu a fuori, guarda, figa! 2 a 0 Balotelli! Tienilo, 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 non lo puoi costare, tienilo, aspetalo là, aspetalo là, aspetalo là, tienilo tutto, duro, duro, tienilo là, tienilo là, fuori, tienilo là! Tieni cazzo, tieni cazzo! Che sì, taglia, 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 taglia! Vai maestro, vieni vanili, vieni, vieni, vieni! Gira così, gira cazzo! Gira così, gira! Gira! Dai, dai, è pieno! Oh! Oh! Cazzi cazzo, dai dai! Vai! Salire, 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 salire! Fuori! 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 Fuori, fuori! 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 Italia! 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 Yeah! Yeah, inna, yeah! Grande! Voto vanno, voto vanno. Voto, voto. Voto, voto. Voto vanno, voto vanno. Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.